Fra siamo in live esci dalla regia esci dalla regia cosa c'è Stai lì nascosto ti nascondi dietro la intra non ti si vede come stai bene 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 oggi abbiamo un gran manico un gran manico che farà il quiz Mi hanno sempre detto che quelli che sono bravi in bici tante volte sono meno bravi in altre cose Tipo non nella teoria nella nella storia della mountain bike Te sei bravi in bici? Sei bravo nella storia? Insomma Ma come? Cioè sarai bravo in qualcosa Boh lo scopriremo Lo scopriremo navigando su internet Allora vedo già dietro le quinte cominciamo già ad avere gli ospiti E che dire direi che piano piano possiamo già invitare Sennò per cosa la facciamo la puntata no Allora cominciamo a preparare verbalmente Steve Wood Il grande Steve se è pronto che piano piano lo inviteremo Allora ricordo il regolamento Dieci domande a tema mountain bike non a tema cucina gossip Sei bravo sul gossip Fra? Eh anche lì ho un po' stento Dieci domande Naturalmente come chi vuole essere milionario In pieno stile chi vuole essere milionario Quattro proposte Una sarà esatta Abbiamo l'aiuto del pubblico Io spero che il pubblico cominci a interagire con noi Perché Steve ha bisogno del vostro aiuto L'aiuto da casa Vedo Perché noi possiamo vedere tutto Vedo un raffa dietro le quinte Ma Ecco così Ma lo presentiamo Sei pronto raffa dammene ok No si dai mandiamolo Mandiamolo online Raffa dai Eccolo In live Ma si E se te la mia non so cosa devo fare No ma tranquillo Tanto alla fine adesso ti sta vedendo un po' il mondo del web Ma non c'è problema Hai mai visto che vuole essere milionario? Certo Praticamente abbiamo invitato Steve per il nostro format Sono dieci domande sulla mountain bike Ma devi rispondere lui o devo rispondere io? Deve rispondere lui e te sarai il suo aiuto da casa Almeno io penso che ti ha invitato per questo motivo giusto? Sì molto probabilmente sì Ma ti senti pronto per un simile aiuto? Cioè Ne conosci di mountain bike? Sì Allora Direi di sì Allora Steve se sei pronto attivami la fotocamera e lo invitiamo dentro Noi invitiamo Steve che ce la sta ridendo dietro le quinte Ma chi inviti? Ma devi spiegare Cioè inviti le persone così senza spiegare la motivazione Mi hai fatto spaccare vedere Raffa così Grande Raffa Io non lo conosco nella vita reale Quindi io lo conosco solo adesso in live Non so in live Guarda che questa è una scelta Altro che strategica Vede Raffa con noi Guarda che Ah Vedete già ride Vedi Sì Va bene Vedrai Allora direi che Ma no Al massimo dici Al massimo se sbagli La butti sul fatto che l'hai fatto sbagliare appositamente Proprio per Per ripicca per l'invito Tra l'altro io non conosco Francesco quindi ciao Francesco Ciao Steve Ma chi lo conosce Francesco? Ma è lo stesso Non conosco No scherzo Ma Steve prima di iniziare Ma te sei un teorico della mountain bike o zero? Ah Allora partiamo bene Hai visto che ho risposto prima che tu finissi la domanda? Sì sì proprio Ok Bastava il teorico Non me l'ero preparata questa per quello che la sapevo Eh Ti aspettavo una domanda del genere Va bene Allora direi che rompiamo il ghiaccio E quindi prepariamo il fra compito originale Salutiamo Raffa in modo gentile E dopo ti richiameremo dentro quando Chiedere molto aiuto Ciao Raffa Allora In teoria le domande iniziali Steve sono semplici Anche se la prima Boh Io spero che segui un po' il cross country Sì certo Ah allora Allora iniziamo Dai fra Cos'è il cross country? No 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 Allora vediamo un po' Uh Allora Sono quelle domande che se uno la sa è facile Ma se uno la sa però Vediamo Perché Sai non so mai cosa dire In altre puntate le domande più facili Spesso erano le più sbagliate Allora Dai iniziamo E dopo piano piano Proseguiremo nel cammino Allora Domanda 1 Chi ha vinto le Olimpiadi di Rio 2016 maschili? E se la roma No è già in crisi Quindi non posso neanche giocarmi il nome che conosco Allora Mi stai preoccupando Ah Luca Vraidot B Mattias Fluchiger C Nino Schurter Di Julian Absalon Allora Una cosa che potrebbe aiutarti È il fatto che è la prima domanda E quindi Dovrebbe essere una domanda semplice E questo potrebbe essere Un aiuto Semplice Dipende dai punti di vista Comunque Considerando il fatto che io non ho la televisione in casa E non la guardo da Circa 6 anni 6 anni Ok 2023 meno 6 Ah siamo già nel 2023 2017 Dovresti averla vista Rio eh Porca miseria Comunque io proverei Io proverei con la D Allora No 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 Rio 2016 Ok Allora proveresti con la D Allora Io mi sento di Anche se devo dire che Anche se ecco Anche se sono sicuro che Due Purtroppo spero non ci stiano seguendo So che non l'hanno vinto Mi dispiace per loro Non hanno vinto L'Olimpiade Quell'anno Che sono A e B In realtà sono abbastanza indeciso Tra i due sotto Però Ma sai che quando l'abbiamo messa Infatti ho pensato subito Non è proprio una domanda facile Perché se uno Non Cioè O la sai o non la sai Non è quella cosa Che c'è lì Anche perché sono nomi conosciuti Cioè non è che Era Topo Gigio Steve Wood Shurter Absalom Ah ok Allora Essendo la prima Io mi sento un attimino Di Cioè Se sei sagace Dovresti aver capito Un po' dalla mia espressione Non so Prova a ragionarsi Non sei proprio convinto No 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 Non sto aiutando Però prova a ragionarsi No ma io ho capito Che secondo me Penso di avere Aspetta che chiedo l'aiuto Al mio neurone Ah Wow Ecco tipo lui mi sta suggerendo Una cosa Grande come un cervello Mi sta suggerendo Che forse la mia risposta Non è corretta E ciò Sono indeciso tra due Quindi Io penso che Do conferma Sulla C Direi che Beh Nino Shurter Era un ottimo atleta No Potrebbe aver vinto Infatti però mi sembra Troppo fa Cioè capito È abbastanza forte Come Ammetto che non ho guardato Le Olimpiadi Però anzi no Adesso mi viene in mente Che se non sbaglio Quell'anno lì Deve aver fatto Una Una bella battaglia Ma poi Gli ha dato un gas Adesso non mi ricordo Se è quell'anno O I quattro anni dopo Ma chi lo sa Chi se lo ricorda Comunque so che mi ricordo Ad aver visto Una Un'Olimpiadi Di Shurter Che gli ha dato Veramente giù Gli ultimi giri Una di quelle piallate Al secondo Può essere andata così? Ma a parte che Shurter Penso che ogni gara Gli dava le biellate Quindi Ecco Allora forse Magari era Il cross country Il classico Comunque Proviamo con lui Dai Mi ispira di più A livello di Di performance Ok Accendiamo la C Accendiamo la C Accendiamo la C Vediamo se è giusta Potrebbe essere sbagliata Ed è giusta Allora Steve Ti ho aiutato un po' È la prima Quindi tu non devi neanche premere un botte Cioè è già automatico Hai visto che roba Ma no Ma cosa serve il Fra Secondo te? Ah ecco perché non c'è più Fra Fra esce un attimo Dall'uovo Ciao Fra Ciao Comunque Il mio consiglio personale Lanciamo sempre Il video dopo la domanda Perché noi abbiamo sempre Lo sketch video Quindi adesso Abbiamo il video Guarda che roba Eccolo qua Eh vedi Avevo detto che era lui Vedi Adesso Fontana Che Come sempre Partito forte Però sto giro Forature Questo è il primo giro Vediamo l'ha detto Peter Sagan Però in teoria Hanno fatto una brutta fine Sia Fontana che Sagan Tutti due a forato Uno davanti Uno dietro Tutti a piedi E niente Queste erano un po' Le prime olimpiadi Veramente artificiali Eccolo qua Schurter Kulavi Carlo 15 secondi Ah ecco questa qua Avevo visto proprio Adesso che leggo anche il nome Della repubblica cieca Di Kulavi Mi ricordo proprio Beh sfiammata comunque Da parte di Schurter Steve ma Facendo un passo indietro Dovevamo fare un po' Nella intro Questo discorso Ma Ci stai dando bene Dentro di corsi Quest'anno Perché mi sono preparato Mi sono andato a vedere Un po' Le date Eccetera Guarda che roba Guarda lì le date Preparatissimi Ma riesce a farle tutte Ma in realtà sono sparse Durante il 2023 Quindi non Cioè Se le si calcolano Considerando che tutte le prime Sono a livello Diciamo il primo approccio A quello che è un corso Quindi non il primo approccio A una mountain bike Ma a quello che è un corso Di mountain bike Quindi Mi faresti Un riepilogo veloce Degli epic lab Epic camp La differenza? Beh vedo che hai già un po' studiato Effettivamente Eh Li vedo scritti qua Allora L'epic lab Che sono tutte le prime date E sono Partiamo È un corso In mountain bike Dove si può chiamare Le basi I fondamentali Della mountain bike Quindi partiamo Da quelle che saranno Poi le fondamenta E da lì possiamo iniziare A costruire Un riding consapevole E soprattutto Che ci dia sicurezza E divertimento in bici Quindi I lab Li consigliamo È un corso base Ma lo consigliamo anche A chi va in bici Già da qualche anno E vuole intraprendere Un percorso Di mountain bike Quindi Per imparare Quella che è la tecnica corretta E per divertirsi Confermi che spesso Si trovano biker voluti Che non sanno fare una curva Di che altro È una cosa Che ci lascia sempre Molto Un po' così Che ci colpisce molto In bike park Vediamo tutti questi ragazzi Velocissimi Dopo quando si analizza Oppure appena vengono Le prime gocce di pioggia Ne vediamo Molti meno In bike park E quelli che ci sono Spesso anche si sdraiano Perché Nel momento in cui La qualità Dei nostri componenti Che è altissima Viene meno Causa fango Per esempio Serve la tecnica Se non abbiamo la tecnica È difficile stare in piedi E quelli che Quello che ci aiuta tantissimo In parco Alla fine In parco Sui nostri sentieri È che se ci pensiamo Abbiamo Praticamente lo stesso pneumatico Che utilizza La wrong win A fare il mondiale Abbiamo dei componenti Di qualità Eccelsa E il limite Sulla bici Siamo noi È sempre Così No Abbiamo delle bici Estremamente performanti Quindi Penso che un corso Sia molto Abbiamo finito proprio oggi Anche con Lezioni private Ne abbiamo anche domani È una cosa Che sta piacendo molto Che abbiamo tanto Che riscuotiamo Tanto interesse E i miglioramenti Proprio sono effettivi Sui ragazzi Anche chi va in bici Già da Anche 6-7 anni Ma te Tu hai passato In mountain bike E hai iniziato Con subito gravity O C'è stato un spazio Di cross country No In realtà Per me esisteva Non ho mai fatto Agonismo Di cross country Ma io ho scoperto La parte gravity Abbastanza tardi Perché per me La mountain bike Era io Prendevo dei libri Adesso ho fatto ordine Proprio oggi in casa Se dopo mi sposto A videocamera Ce l'ho qua Anzi Ve lo faccio vedere Subito che l'ho visto Wow Io avevo questi libri qua Per me La mountain bike Hai capito Di cosa stiamo parlando Per me la mountain bike Era questa Cioè non esisteva Il gravity Il downhill Quindi Voglio far vedere Scusate ragazzi Ma Di cosa stiamo Parlando Ma lì Ma vedi che però C'era la sella bassa Però lì Come fa a fare una posizione Comunità Però Io ho imparato così Andare in bici Da questi manuali Sono qua altri Peraltro ho fatto Un po' di una stanza Quindi era lì E quindi per me Era il cross country Esisteva Dopo io in realtà Andavo sempre a fare salita E mi buttavo giù Dai sentieri Da ragazzino Perché è quello che mi piaceva Però Poi il primo approccio Reale L'ho scoperto Con l'avvento Chiamiamo l'avvento Dell'enduro Quando l'ho scoperto io Per lo meno Attorno al 2010-11 Cioè no In realtà 2006 Bici da freeride Allora Da lì ho capito Che esisteva il gravity Quindi la Kona Stinky Prima bici Spingevo in salita Per usarla in discesa Però era veramente Antipatica la cosa Dopo quattro anni Ho scoperto l'enduro E da lì Le cose Si sono È nato un mondo Sì Però c'è stato il gravity In mezzo effettivamente Tra cross country Diciamo amatoriale E enduro C'è stata Una bella parte di freeride Ok Adesso passerei Seconda domanda Anche se dopo Ho delle altre domande Per te Quindi Oggi sei sotto Sotto Tokyo Allora I pneumatici Pneumatici Trova che non esiste Ok Oh È già partita E Questa è facile Allora Un panettone A Un tipo di salto B Un dolce Senza canditi C Un tipo di drop D Un mark di mountain bike Vedi che siamo ritornati Un po' Sul Dovessi mai creare Un mark di mountain bike Probabilmente Chiamerei il panettone In memoria Di questa domanda Questa domanda Che Cioè Chiamiamola facile Adesso la sbaglio Figura Proprio bruttissima Però mi fa paura Perché questa domanda Se quella di prima Era facile Questa Ma il facile È un po' Un po' Un bigo Cioè Paura della domanda 10 Comunque Vediamo di non sbagliare Lo conosci Alberto Ciao Stefano Mitico Ah grande Alberto Sei stato mitico Ciao Alberto Fantastico È venuto a fare un po' Di corsi Lui e suo fratello E Comunque direi Un panettone Non è un dolce Quello di cui parliamo adesso Anche se potrebbe essere Una domanda un po' Ambigua Io lo butterei Sull'argomento Mountain bike E quindi un tipo di salto Un tipo di salto Beh Dai Non facciamo troppo Allora naturalmente Anche sulle domande difficili Io ti dirò sempre L'accendiamo Quindi questo non deve Trarti in inganno Sul fatto che voglio Farti cambiare idea L'accendiamo Ne hai fatti di panettoni Nella tua vita? Sì Un paio A fare un paio Di Willy Wonka Ne facevi circa 35 di panettoni Quindi Ed è esatta Ed è esatta Allora 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 Abbiamo Abbiamo un Un foto O un video Di panettone Vediamo un po' Ah Però non vediamo Il terminale Ok Sì questo è un panettone Direi Non vedo gobbe strane dopo Sì dai Panettone un po' Particolare Perché Ma rider Sulla destra Lo vedi bene? Tutto posto? Sì sì In teoria Dovrebbe arrivarsi L'atterraggio Quindi tutto ok Vediamo se Ah ecco Questa tecnologia No Questo è un panettone Questo è Francesco Che La regia L'ha bisogna In venti Venti decimi Di secondo Pagettone Va bene Passiamo alla terza Vai Daghe Allora Beh intanto Conosci i livelli Del gioco? Guarda Te ripiazzo qua Vediamo Sì no Il livello di gioco No Zero errori Puro sangue Non sarà mai così Biker doc Vado subito a vedere I due errori Biker disidratato Effettivamente bevo poco Me lo dicono spesso Quindi ho un presagio Ma sai che anch'io Non bevo mai Cioè è un casino Non so Ma parliamo di Ma perché Ah sta già leggendo Allora 3 Il compressore Dolomiti Paganella bike Di quanti impiani Di risalite Impianti Di risalita dispone A nove impianti B un impianto Poi ragioniamo C zero impianti D diciassette impianti Ma qua parliamo impianti per le bici Giusto? Sì Perché stagione invernale Secondo me Potrebbero essere Ma non lo so Se arriva a diciassette Però Comunque Vado? Do la risposta? Non sono sicuro Però Non sei sicuro te? L'hai inventato te? In realtà In mezzo avevo un'altra cifra Vi dirò la verità E quando non l'ho vista Nelle risposte Ho detto Porca miseria Niente questa Ma noi siamo molto teorici Noi siamo andati sul sito Adesso li guardiamo assieme Se mai Ragioniamo Qual è la risposta? Io proverei a dare Un nove impianti Attivi per le bici Ok Accendiamo? Sì dai Madonna Se sbaglio questa ragazzi Ci ho lavorato solo nove anni Ecco Quindi ogni anno Di tuo lavoro È nato l'impianto Esatto Vedi? Peccato che mentre Avevo un numero Nove meno uno Così non lo dico Ah Adesso Mi ricordavo Adesso Eccoli qua Eccoli qua Uno due tre Quattro cinque Sette Otto nove Qual è che ti mancava? Perché non consideravo Prati di Gaggia Paganella due Eh Vedi Quello non lo consideravo Non averlo mai preso in vita Perché non c'è ancora un trail Ma io penso che Qualcosa Stiano Guarda qua Questa è Questa è I repertori Questi ragazzi Hai visto Quanti anni fa Si parla Beh Questa già Non è 2017 Perché avevo il nomad Quindi 2017 Avevi appena Avevi appena staccato la tv Sai che prima dicevi Beh 2023 Mino sei anni Mi piace che le mie battute Far ridere Far ridere per non far piangere Allora Quale è il commento Generale Mi parla un po' i commenti Comunque fra Pensa si è da mandare i commenti Magari Boh Dai un segnale visivo Fai una Non so Una fiamma Che esca Mi ripardo un po' tutti Non vedo Allora io non vedo commenti Da nessuna parte Comunque Fra Manda un commento Ah eccolo lì Non ci sono più Non ci sono più le domande Due di una volta Ampi Michele è stato uno dei primi concorrenti È rimasto un po' Sbaccato Perché ha fatto tra l'errore Quindi adesso si lamenta Che Che sono facili Aspetta Mi raggiungo Adesso Domanda 4 Vai Sta andando veramente a bomba Una decina di giorni fa Aia Sei senza tv Si è svolta la Red Bull Valparaiso In Gira Come non la sai Chi ha primeggiato A Lorenzo Suding B Johannes Fischbach C Thomas Slavik Di Pedro Ferreira Eh Questa ragazzi Qui ci abbiamo un 50% All'interno delle mie Capacità Di decisioni Ho provato il 50% Avresti anche l'aiuto del 50% Eh no Perché sono sicuro Che adesso sono indeciso tra due E mi lascia solo quelle due E quindi sono fregato No Ma sai quella La strategia del 50-50 E te lo dice uno Che se ne intende È non ragionare E chiederlo subito Ah vedi no Allora questa ormai è andata Ci provo il prossimo Perché sta ragione E poi Francesco Gli piace fare i scherzetti Ti lascia Dici sono indeciso tra due E lui te le lascia Ma qua Come funziona 50-50 E poi aiuto del pubblico Quindi ho due aiuti Sì Praticamente L'aiuto del pubblico Noi diamo una sbirciata in chat Quindi Chi ti sta seguendo Che sta commentando adesso Sui vari social E Quando noi chiediamo l'aiuto Facciamo vedere Trenta secondi la chat Se nessuno risponde O ti vogliono far sbagliare Bisogna anche vedere quella Tipo Però di solito è un bel aiuto Sono sicuro è quella Comunque mi sa che Tornando alla nostra domanda Secondo me Suding Non è andato A farsi Un giro Penso sia È in Argentina Vero? Ah no in Cile C'è anche scritto In Cile Fischbach neanche Puoi fare Secondo me è stato Slavic A vincere Però penso che Ferreira Abbia anche Può essere che abbia vinto Qualche vecchia edizione Andremo a vedere Comunque accenderei la K La K Fra sai qual è la K? Perché è CK C-H La accendiamo? C-H Esatto Non vado a vedermi Ferreira Lo sai che in teoria Non si potrebbe Beh accendiamo la C Ah no perché accendiamo la C Ok Eccola qua Giusta Avevi ragione Perché Pedro Ferreira Ma ecco Vedi Bravissimo Eh infatti ero Le parole mi giungono sempre Però quest'anno è bella Vado a vedermi il replay Eccoli qua Slavic Ormai era Delle Urban DH Ma Beh mi hai fatto Le Urban DH No E non penso che ne farò mai Per questo motivo Per questo motivo E' un attimo Saltare fuori dalla rampa E atterrare sul cemento Qui si entra Un paio di amici Che li han fatte E beh Vi ricordate Qua ci stava benissimo Una foto del tondo Te la ricordi? Vediamo se francesco dalla regia Trova la foto del tondo Alla Valparaisio Wow mi piace Mettilo alla prova Adesso noi andiamo avanti col programma Il fra deve tirarci fuori la foto di Danny Stondin a Valparaiso Oh se ci fosse anche il video Magari lo esporti Lo monti Fai il montaggio E dopo se lo mandi Ok Passiamo alla domanda numero 5 Non so perché Ma gli alberi sono più morbidi Dei muretti Non so il perché Allora io ho fatto la Allora A me mi scimmiano le urban Però è come la maxi Le fai E quando sei in partenza Dici ma No no Non va bene Non bisogna farla Poi arriva la fine Sì voglio farla Cioè fai conto che io ho finito La meadowflake Con la maglia strappata Perché ho fatto la curva E ho preso il muretto Penso che un centimetro nella Mi partiva la clavicola secco Però Si capito Se tu centri un albero Secondo me ti ammortizza Per mezzo centimetro Almeno no Un albero Il muretto Secondo me Forse arriva al millimetro Di elasticità Dall'impatto Madonna Io l'impianto di Paganella 2 Lo prendo per fare Il cartoon trail Può essere? Aspetta che ho L'impianto di Paganella Lo prendo per fare Il cartoon trail Ah vedi l'ho letta anch'io questa Sì Molto Molto furbo Io non l'ho mai fatto Lui Ma perché ho sempre pensato fosse chiuso Quell'impianto Effettivamente Passiamo Marco Lino Mi sa che lo conosci Ora lì Mi fratello Ok Ti rendi conto che siamo passati Ah ma siamo già passati Mi distrago Facciamo discorsi Allora Ma siamo appena a metà gioco Va ancora Due volte campionessa del mondo Giovanna Bonazzi Sei esperto storico Steve? Con quale bici ha vinto il titolo E ridatelo il 91 Chi comincia a farsi Però Si può arrivare A Prince Cycles B Bianchi Ragno C Silo Cilo Silo Sai che mi coglio improporato Non so di che Se si dice Vabbè Facciamo un silo Di Alpinestars Cro-Mega Io questa Invece che andare diretto Sul 50 e 50 Questa vado diretto E la sparo Perché io non voglio Essere un bancho E voglio proprio Boom Quindi dirò la B Senza Fatto Ormai l'ho detto Proprio senza pensarci Ok Non la sparo Non ne sono assolutamente certo Però E se dopo Sbagli Cioè Non ti rimane Il rimpianto Dell'aiuto Cioè Alla fine Arrivassi in fondo A dieci domande Tutte e dieci giuste Cioè Che la vita Non è così Bisogna fare degli errori Quindi Che filosofia Allora Seguo il tuo flow Dimmi te Peggio Sì sì Seguiamo il flow Accendiamola B Sì Accendiamo Se tempo regge No 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 Ma io devo accendere la B Ma io devo accendere la B Eh ma è giusta là È quello Cioè noi non abbiamo quella tecnologia Di dire Rossa è sbagliata Noi andiamo direttamente Se accenderemo la B Ok Eh vabbè Beh Allora siamo ancora Biker Doc Vediamo se La regia E Michele Michele La sapeva questa Proviamo a chiedere Michele Questo qua Era un Questo qua Era un batticatena Era un batticatena Montato al contrario Sempre per evitare Che il dentino Che Quando facevi la cambiata Sulla Sul corona anteriore Non ti risucchiava E la ricasterà tutto Sul trattore Oh così Che bello Senza mani sui freni Solo sulle manopole E via andai Era E era Diciamo Nel clou Del ciocco del 91 Però la usava Bruno Zanchi Quindi era un po' Ingannevole Invece Quindi Zanchi Ha vinto Il mondiale junior Con la Bianchi Ragno Mentre La Bonazzi Con la Prince Cycles Mi ricordavo Mi ricordavo La Bianchi Ragno Io a quell'epoca Eh ma Sì infatti Era un bel mezzo Mi dispiace un sacco Perché quando Quando si perde Così il biker Puro sangue Mi dispiace Però già il biker doc È già un bel risultato Punti in alto Ne mancano cinque Grande Michele La sapeva Michele Chiediamo Michele Questa la sapeva Vediamo Ma non Ma mica la sapeva Cioè adesso Vabbè Voglio vedere che scusa Tira fuori Questa è un po' Ma no Sai che forse Poteva saperlo Perché noi abbiamo la fortuna Dico noi Perché siamo in territorio veronese Giovanna Bonazzi È veronese E quindi Michele So che è veronese E sai da veronese Magari siamo più sul pezzo Allora 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 Eh vabbè Allora direi che passiamo alla 6 Però hai ancora tutti gli aiuti Il bello di sbagliare senza usarli aiuti È che poi ce li hai Quando non servirà Non ci vuoi di più Allora Passiamo alla 6 Allora la 6 Andiamo sul DH Andiamo sul DH Di che nazionalità È l'atleta DH David Trummer Argento e mondiali DH 2020 A Austriaca B B Tedesca C Australiana D Francese Allora Diciamo che in un iter di gioco Anche per uno che punta a essere biker puro sangue È quello di arrivare a 5 senza errori E poi cominciare a usare gli aiuti dalla 6 Però noi abbiamo già fatto un errore Però possiamo sempre Sfangarla Il nome mi farebbe andare verso una risposta ben precisa Come prima Però Grande per la filosofia Figurati se da sapere Comunque Cosa facciamo? La dico? Non uso l'aiuto Così arrivo Supero le 6 Io c'ho ancora due aiuti È bello arrivare a tre errori E non usare gli aiuti Quello è Non l'ho mai visto fare però Può essere una strategia Ti abbiamo un po' perso Perché ti ho un po' perso È la mia connessione che fa pena ragazzi? Ma non lo so È la mia connessione che fa pena? Non saprei perché Anch'io abito in luoghi un po' strani No no Finora tutto ok Hai fatto un salto Ok Quindi non mi so Comunque il ragionamento Dimmi La La dico no? Giusto? Non so cosa vuoi dire Quindi Sì sì la dico Io dico la risposta Adesso io dico la risposta B Vai Francesco Fai un lavoro fatto bene Ok Ma te hai mai visto un tedesco sul podio mondiali? Mai visto Effettivamente Però c'è da dire Però io potrei anche ingannarti Cioè Se segui la trasmissione Spesso succede una cosa del genere Infatti ormai Mannaggia Comunque Devo dire che sono indeciso Effettivamente Tra due Che però Ehi Steve Ciao Beccati questo commento Vai Porca miseria Però sarebbe un peccato Magari arrivare alle ultime tre domande Saperle E non usare Beh allora Se sei convinto La signora Vincitare Comunque no Dai facciamo B Effettivamente Tu così mi stai dicendo Che la sto sbagliando No no Non sto dicendo niente Però Trummer Dai Davide Trummer Beh questa è una domanda È tosta Eh Questa è tosta Secondo me Però fai conto Che da casa O dal pubblico Se sono bravi Hanno anche il tempo Di informarsi Quindi Dopo questo minutaggio Potrebbero essere Assoluti Mi stai facendo venire te Mi stai facendo Cambiare idea No Io utilizzerò L'aiuto del 50 e 50 Ma non il vostro Il mio Quindi io Adesso cambio le carte In regola E vado sull'altro 50 Che avevo in mente Perché effettivamente Potrebbe essere Secondo me La mia ancora di salvezza Per non essere Per rimanere ancora doc Almeno un paio di domande Quindi io butterei Io accenderei la A E sarei Io vado Austriaca Madonna E come quando arrivi a bomba Vuoi fare il doppio Ma dici Lo triplo E può finire Sono in tragedia Comunque sì No effettivamente Dai ci può stare Gli austriaci in bici Ci vanno di brutto C'hanno un sacco di bike Ma sono tutti Anche le montagne Vero Sì hanno anche le montagne A differenza dei tedeschi Che effettivamente Questa era Però io sono andato per nome Mai sentito David Truman Devo essere sincero Vabbè dopo Dopo lo vedrei Ho segnato Che lo vado a seguire Poi su Instagram Che non venga Un argento Non è facile Pigliarlo No di solito Dai facciamola E poi andiamo I prossimi Giuro che non li lancio Così Va degli aiuti Ok Accendiamola In pista Accendiamo Vediamo la regia Ed esatta Steve Ok Sappi che adesso Io mi impegnerò Anche ad aiutarti In modo contrario Perché se no dopo Sai Michele si arrabbia Dopo Cioè Michele va Dira che io Non le so Le sai Ti faccio vedere Fai la settima Vai Ah però prima Ti faccio vedere Che David Trummer Ud ma non segue Una cip Allora Grande Brian Di qua sono malati Di bici Brian Questo lo dico in diretta Brian Dei malati Di bici Non segue una cip Ci sono degli estremi O da una parte O dall'altra Valparaiso Cross country Serve BMX For cross No quello l'hanno un po' tolto Quindi seguiamo qualcosa in meno Regia facci vedere Trummer che faccia Ah però Eccolo qua L'ho un gatto Vabbè ma era il mondiale Quello post covid Col fango Che era venuto Mondiano un po' anonimo Eccolo lì Secondo detto Rich Wilson Che aveva vinto Quel mondiale All'Eugang E questo è lui Adesso che corre Per Mondraker E vai Hai visto Allora Passerei a settima domanda Sei in bolla Eh Allora Ma io avevo delle domande Per te Segnate anche Però no Siamo andati un po' troppo In là col gioco Ma te la sparo No dai te la sparo adesso Che era riferito ancora ai corsi Eccetera Ma è mai successo che Con un corsista E proprio ho gettato la spugna Non c'è niente da fare Questa è una bellissima domanda In realtà C'è chi è negato Cioè bisogna mollare A un certo punto Non è che tutti Vi racconto questo annetto Non è mai successo Non ho mai gettato la spugna Ho portato a termine La missione Però Non è servito dirlo Non Non era il suo sport Lo ha capito Questo è successo In tempi molto Lontani Con una ragazza Che però Non vuol dire Perché Abbiamo Ma se fai nome e cognome Al massimo la tagliamo No assolutamente Anche perché Chi se lo ricorda Comunque Un individuo Su una mountain bike Che Ci abbiamo messo E non sto scherzando Chi conosce la Paganella La Peter Pan Non esisteva ancora Willy Wonka Non c'è proprio neanche In stato embrionale Non esistevano Due ore A fare la Peter Pan Due ore Ma come 4,4 km di tracciato 3,4 4,4 Ma forse I primi anni C'erano 3,3 I primi anni C'erano le radici Forse No L'avevamo appena fatta Flow Che era la salvezza Di noi istruttori In Paganella Perché Prima era solo Tracciati Difficilissimi E questi ragazzi Mi ricordo bene Se sono i primi anni Io la frequentavo solo Quando c'era solo il Paganella Quindi Era jolly su jolly Ogni volta Però In ogni modo il trucco è stato Sollevarle completamente Il freno anteriore In maniera tale Che lei non potesse toccarlo Perché lei ci andava A bestia Sì sì Ha piantato due frontflip Due ore Ragazzi Cioè T'hai trovato il coraggio Di spostarli la leva Sì 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 No ma era Andata benissimo Così Veduta Ginocchia bloccate Freno posteriore Bloccato Rigidissima Però un po' scendeva Io tipo la tenevo Perché andava giù Ai 4 km orari Stavo un po' così Cercavo di Tranquillizzarle Voleva Non è che scendeva Lei voleva Assolutamente provarci Perché poi abbiamo detto Guarda lasciamo Veniamo un altro gioco Si può vivere felice Anche senza andare in bici Ultimo pezzo Proprio l'ultimo incrocio Che la pista d'asci L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto A piedi Comunque Cioè ovviamente L'aiuto del pubblico Vale Secondo me È molto più potente No? Rispetto all'aiuto 50 e 50 Bastava scambiare I freni all'inglese Li usava entrambi Però Brian Comunque saresti Un valido aiutante Perché serve fantasia A volte Per tirarsi fuori Estrocreatività Ma quando è che hai pensato È ora di fare i corsi? Cioè te Sarai arrivato a un punto Che correvi Facevi In realtà Io ho sempre avuto La passione Per Per portare Amici Nella mountain bike E nel lontano 2011 Abbiamo Iniziato Con un'idea un po' Embrionale Non in paganella Perché io ho fatto Il corso di maestro Della federazione Nel 2011 C'era qualcosa su Trento Che stava nascendo Che poi in realtà Non ha preso piede E poi una casualità Mi ha fatto Arrivare in paganella Come Inizialmente come trail builder E però Iniziavano ad esserci Le prime richieste Di Di guida Ma anche di Lezioni E Ero l'unico Su E quindi Diciamo che È iniziata come Natural Evoluzione Di Un bike park In stato assolutamente Iniziale Che però Qualcosa si stava creando E Scusami Ma Era molto divertente No fare lezioni Sull'Apocalypse Now Arancia Meccanica Noi primi tempi In realtà erano altri Lo sai Esattamente Erano altri tempi Lì era old school Cioè non è che eravamo in tanti Andare in bici Eravamo in pochi Poi i primi corsi collettivi Io la prima locandina Se non sbaglio Flyer Sai che si fanno su internet Così Penso che risalga Il 2014 La prima in assoluto Dove io con un amico Che era venuto Perché abbiamo detto Lo facciamo in due Per questioni di avere il gruppo Splittarlo e tutto Penso la prima locandina Di un collettivo Prima se no Erano solo lezioni su richiesta Ma comunque poche E tante ancora di stranieri Che si avventuravano In questa paganella E loro invece Ce l'avevano già più molto Nella cultura Sia lezioni Che anche tour guidati Sì Tutto è per sorvolare Su questa domanda Che non so Ragazzi Questo è il press Delle teste di marmo Ho capito Ho capito la domanda Comunque Questa domanda Non prenderla sul personale Michele Il press è malefico Penso che la domanda Era riferita Al fatto Non hai mai gettato la spugna Con un corsista Allora Siccome Vabbè lasciamo star Sono cose nostre Allora Domanda No domanda 7-8 Ah siamo la 7 Ma quando è cambiata la domanda Mentre parlavamo O adesso Non so Eh cambia così Però è bello Allora Chi ha vinto la categoria Elite femminile Questa è recente Alla gara internazionale Di Selva Se è Portogallo Sarà un selva A Martina Berta B Giada Specia C Evie Richels Di Sara Cortinovis Questa è Dovresti averla vista Rimbalzata sul web Perché No Ah No Beh Allora Il bello è che ti rimangono Tutti gli aiuti Allora Raffa ti sarà maledicendo Perché Magari voleva Subito l'aiuto iniziale O poi andava A fare le sue cose E invece lo stai tenendo in ballo Per tutta l'ora Eh ma Tieni duro Raffa Vi posso garantire Che me la farà pagare Comunque Eh Questa qua Non la so Ah Così E giustamente Dò ragione a Brian Non segui una mazza Ude No Non seguo una mazza Hai ragione Cioè Non è che non seguo una mazza Che effettivamente Negli ultimi due anni L'agonismo un pochino Più che altro Mi piacciono molto gli highlight Io sono uno di quelli Abbastanza Si può dire Malati Degli slow motion Di guardare i movimenti Mi piace guardare le gare Per guardare un passaggio Però poi Una cosa che mi piace molto Della mountain bike È che Non ho un rider preferito Cioè non è che tifo Dico una banalità Tifo inter 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 Cioè Esiste l'inter La Juve Il Napoli Esistono tutte no? È bello È bello È bello La programma attiva Un po' della mountain bike Cioè vedo che Non siamo infoiati Cioè ci piace lo sport Però Però Significa che non segui nemmeno MTB Meg La data Questa notizia Sono tanti articoli No seguiamo tutto Seguiamo La data Questa notizia Come? La data Questa notizia Perché non l'hai seguita Penso di sì Penso di sì Perché Non pongo Granché interesse Sull'agonismo Ma più che altro Per una Un po' È una scelta Che ho fatto due anni fa Questa è una Cioè mi piace molto Tutto il gesto atletico Però non ho un interesse Su tutto il podio Effettivamente Su chi ha vinto Sull'andare al vincitore Per me l'espressione È molto sportiva Un po' meno agonica Cioè mi piace La parte più sportiva Sì sì Comunque Che aiuto chiediamo? Come la chiudiamo? Eh facciamo No no che aiuto Scusa 50 e 50 Che vi faccio due risate così Uh 50 e 50 Vediamo un po' La regia ci mette un po' Perché è un discorso complicato Ora C'è anche questo Visto? Così teniamo in ballo Raffa ancora un pochino Allora Perché qua Qual è il difficile? È quando dici Devo togliere Ma non togliere quella giusta Esatto Era un deciso Tra queste due Proprio No scherzo Comunque Qual è quella C'è più gamba? Allora tutte e due Sono le ottime atlete Sinceramente Anzi Se voglio un po' Aiutarti Tutte e due Erano sul podio Però una delle due Ha la gamba giusta Quest'anno Per fare Grandi risultati Beh c'è da dire che Sparare a caso A sparare a caso Con due Diciamo Opzioni La fortuna Può anche aiutare Comunque Martina Berta A Da cosa è arrivata Sta cosa? Che è un nome Che Ma te dovresti Conoscere Berta Ti dice qualcosa Berta Esiste solo Martina Se io seguo tutti i tuoi video Sullo storico Della mountain bike Tu racconti le storie Di tutti i tuoi Quindi ecco Però non mi hai mai parlato Di Un certo berta Sì sì è vero E quindi non è colpa mia Sì sì Storia di una settimana fa Allora direi che Dobbiamo cominciare Ad epilogare La risposta So che non si può dire In italiano Ma io lo posso dire Quindi domanda 7 Allora Chi ha vinto A Selva Categoria elite femminile Martina Berta O Giada Specia Berta Accendiamo Qualche video Va full gas Quindi accendiamola Accendiamola E da lei E da lei Perché Mi vedi Un risulto Perché lo sapevo Lo sapevo Perché ho detto Conosci Berta Perché c'è Il fratello Campione Italiano E-bike I enduro Che dopo va forte Anche con la muscolare In enduro Però ha vinto il campionato I bike Di enduro Adesso vediamo se abbiamo Un po' di Martina Berta Berta Dire che Non mi permetterà mai Di dire Che non sei Un biker doc Però in questo caso Ragioniamo più Sulla teoria Della mountain bike Ma che è Cos'è Se ne sbaglio Una divento Biker Allora Se ne sbaglio Una in più Dopo diventi Astemio Beh Potrebbe essere Anche abbastanza In linea Con Col modo superandi Perché Sei astemio No No Non Estemio E Stremistro Boom Però Non sono un grande Sì Sì Un grande Diciamo che non neanche una birra in casa Ecco Così tutti Buh Adesso Let's go Siamo alle ultime due Domanda 8 Vediamo un po' Che ce l'ho scritta qua Eccola qua Allora questa è quella Che mi piace di più Noi facciamo sempre Come domanda 8 Una comparativa In sostanza Adesso parliamo di sfida in discesa Vuol dire che tra questi C'è solo uno che fa downy Gli altri fanno altre discipline In una ipotetica sfida in discesa Chi avrebbe la meglio? Si comincia a far dura eh A Thomas Griot B Ronan Dun C Pierre the Freud mom Di David List Allora David List È molto simpatico come nome Secondo me questo l'hai inventato tu Magari è un regista britannico Che fa film d'avanguardia Non so È un po' un nome Un po' da regista No Da ciclista Chi avrebbe la meglio? Un'epotetica sfida in discesa Onestamente alcuni nomi Tipo David List Non ho mai sentito Secondo me ripeto L'hai inventato O lo avete inventato Ehm Qua come lo argomentiamo La scelta che Io penso che Pierre de Freud Allora uno ci può arrivare Perché conosce Chi fa Downey O ci può arrivare Perché conosce Chi non fa Downey O se no Può non arrivarci Perché non sa niente Cioè non conosce Questo argomento Ok Ok Però David List Io rimango dell'idea Che È stato inventato Ok Cambiamolo Comunque Secondo me Io direi Il buon Pierre Io potrei dire L'accendiamo Però ti ricordo Che hai l'aiuto Del 50-50 E l'aiuto Del 50-50 Non ce l'ho più Scusa bravo Però è l'aiuto Di Raffa C'è Raffa Almeno Raffa Se sei una Per la 9 Ah per la 9 Ok Secondo me Sì C'è ancora C'è ancora Raffa Sì Raffa Ha disattivato la telecamera Ma giustamente Cioè lo stai tenendo in ballo Un'ora Poverino Però adesso lo tiriamo Raffa stai sul pezzo Che devi cercare Ah sì ci sono Grande Raffa Cioè intanto Ha la Playstation In parte Ci sono Però se no C'è l'aiuto del pubblico Che comunque Ci sono C'è un po' di movimento Se sono tuoi amici Potrebbero aiutarti Comunque No forse Non di me Com'è che Intratteniamo il cervello Che pensa Che sente Perché io C'ho due nomi Io però Guarda Per rendere un po' più Adrenalinica la cosa Io cercherò di arrivare Alla fine In palla È bello Finire Bene E dopo sbagliare L'ultima Che arrivare all'ultima Sapendo già che sei un disidratato Un'astemio Ok Però Quindi Secondo me Tu mi stai portando fuori strada Perché Ma io sono Un amante Però Qua bisogna dire una cosa Che è specifico Discesa Quindi downy Stiamo intendendo Giusto? Gli altri possono fare Altre discipline Tipo cross count Tricks Civo Al massimo Se può Ehi Cosa vuoi? Ciao Fra Cosa c'è? Non ti sentiamo Fra Eh ormai l'ha detta No Non si può Vorrei ricordare Che oltre all'aiuto 50-50 E quello da casa Abbiamo anche l'aiuto Dal pubblico Che forse Questo è bello Bello l'aiuto del pubblico E saresti Pronto Fra? Ma? Saresti pronto a gestire Una cosa del genere Cioè come fai? Dai Steve Chiedi l'aiuto del pubblico Voglio vedere Come la gestisce Francesco Però cavoli C'è ancora due aiuti E È un casino Cioè ci sono due domande Arriva l'ultimo Senza aiuti E in bellezza Hai ragione anche te Hai ragione anche te Quindi chiediamo Anche se in realtà Penso di avere la risposta Perché anche qui Ho fatto i miei calcoli Però Proviamo a vedere Con l'aiuto del pubblico Se risponde A quello che è il mio Ok Anche perché voglio vedere Come la gestisce Francesco Ok Aiuto Madonna Allora Pubblico Cominciate a Allora Diamo 30 secondi Però no Ma ci sono solo Ma come ci sono da leggere dopo Che bello Guarda qua Brian Allora 30 secondi per dire Chi avrebbe la meglio Thomas Griot Ronan Dune Pierre De Fredmont Fredmont David Liss Eh vedi Abbiamo già Due che confermano Fredmont XC Vedi Guardali lì L'aiuto del pubblico È il migliore in assoluto Ragazzi Vediamo quello di Rafa Scusa Rafa Magari il tuo è migliore Eh Sta solo che arrivando BB BB Anche questa era da giocarsela Sull'ultima Così vincevamo tutti insieme Ragazzi Eh vabbè Allora Chiudiamo la chat Thomas e Pierre No Thomas e Pierre No Ah ok Grande Questo è mio fratello Che dice sia Thomas che Pierre No Quindi Pierre No David Ce l'ho io l'aiuto Y no Eh cacchio non c'è però Se non l'avrei detta Perché mi fidavo ciecamente Comunque io ragazzi Dico A sentimento Un po' istigato dal pubblico Vado per la B Ma io direi A Contro il pubblico Dai No No David Non esiste Accendiamo la B? Vai con la B Ed è giusta E beccati come Come guida Come guida Che comunque è campione irlandese Avrà vinto 17 volte il nazionale Perché in Irlanda Uno che viaggia come lui Chi lo batta Stiloso ragazzo Scusa scusa ho disattivato il microfono Fra attiva pure Eccoci qua Hai visto che stiloso? Mamma mia Bellissimo Ma non è facile batterlo Quindi altri Chi avrebbe la meglio Ronan Dunero Bravo Ronan Bravo Ronan Allora direi che Con Ronan Sulle spalle Andiamo alla no Quindi tu dici che io Quindi alla prossima domanda È meglio che utilizzo L'aiuto di Raffa Perché Perché prima una pieni Coglio Raffa No Cioè bisogna tirarlo in ballo Perché ormai secondo me Raffa Aveva un appuntamento stasera Raffa Può essere? No Non penso Va bene Passiamo la notte Anni pochi appuntamenti È dura la vita Di trentenni Giusto Fra? Vabbè Passiamo Eccola qua EBS 2021 A Tweed Valley Sai dove è Tweed Valley? Ci sei stato a Tweed Valley Visto che te giri in California No Però ti dirò che Esattamente dove sia Non ce l'ho presente Ok Comunque siamo in Scozia In che stato è? Scozia Ultima tappa Allora EBS 2021 Nell'ultima tappa Sono arrivati Jack Moir E Richie Rude A pari punti Però Richie Rude ha fatto Una cosa Quindi regalò la vittoria A Jack Moir Cosa successe? Ti dico una cosa Il video Di questa cosa Di L'ha pubblicato A MTV Mag Che è diventato anche virale Allora A Rottura ruota posteriore B Qui c'è stata un'abbreviazione DSQ Quindi Di Squalify Per taglio di una curva Squalificato C Caduta Il relativo ritiro D Partenza dalla PS In ritardo Io in realtà C'ho in mente Un video di cui tu dici Però non sono sicuro Del personaggio Anche perché Essendo bombardati Da Da video Onestamente Però Ci avrei la risposta Chiedo l'aiuto del pubblico Ma perché un'altra volta? Guardavo se riuscivo a fregarvi Ma perché mi avevi fregato Dopo ho visto il movimento del sopracciglio E ho detto Ma Dai chiamiamo Raffa Povero Però Vediamo se Raffa Io avrei una risposta In realtà La indico Ah ok No guardalo lì Questa indicarla con la pena Io mica la vedo Eh Ah ok Comunque Ecco no Sta dicendo che non la sa Raffa Quindi è meglio non chiamarlo Ok non lo chiamiamo Allora Ma come? Ma si può Ah C'è la chat privata È vero? Ma penso a te A questi Cioè voi fate i magheggi Dietro Senza che No in realtà L'ho appena scoperta Anche perché ero full screen Comunque Cacchio non la sa Non lo chiamiamo Lo chiamiamo Cosa faccio? Chiediamo l'aiuto Allora c'è da dire C'è da dire C'è da dire Allora Se Marcolino Gli manda il link Può entrare al volo Però Raffa Poverino No ma Raffa Lo teniamo per l'ultimo Ah Ha un doppio aiuto da casa Ma si può? Allora diciamo che questa È una cosa molto difficile Anche da ricercare Anche da ricercare su internet Quindi è per quello che Raffa Magari è un po' in difficoltà Sì Comunque Cioè io in realtà La risposta Penso di saperla Eh ragazzi Sì Io penso di saperla Però Comunque ad ogni modo Non è per caduta e ritiro E non è neanche per partenza In ritardo Perché questo non Non l'ho sentito Comunque sappi che Steve In questo gioco Cioè è un po' come a scuola Far le verifiche Quindi se arrivano bigliettini Se arriva Cioè vale tutto Cioè basta non farsi beccare Monica Rider però c'era stata tutta una Che se non sbaglio L'aveva fatto finta di niente Era tornato indietro Cioè ci aveva Provato qualcosa del genere No quello Madonna Ho in mente talmente Tante fettucce tagliate In gare di DH Per voli Per cadute Ragazzi In enduro invece Sono studiate anche A tavolini In Italia Sì però all'interno Del tracciato Cosa che aveva fatto Forse si era bagnoppato Fuori qualcosa Fammi vedere La tua espressione Comunque mi sembra L'ipotesi Più plausibile Io direi comunque Rottura ruota posteriore No Secondo me Io ho questo ricordo Che poi non è stato È la B Comunque per quello Non è partito in ritardo E non è neanche caduto E è ritirato Perché è il 2021 Accendiamo? Secondo me accendiamola Va bene Accendiamo Accendiamo la B regia Perché io non vedo l'ora Di vedere il video Perché onestamente Io questo Io mi ricordo il fatto Non mi ricordo esattamente Il rider Però so che c'era stata Stagia triba Mi hai sbloccato qualcosa Dicendomi che era diventato Un po' virale Regia La B Ed è quella Allora Adesso vogliamo il video C'è il video No Ma ti rendi conto Per una stupidata del genere Ha buttato via le WS Per D'altronde Quando c'era il video In tutto interna Lui che taglia Questa fettuccia Così hanno dovuto Squalificarlo Sai che però Non era Vabbè Comunque c'era Forse Il mio cervello Girava questa Questo ricordo Però non Non era quello Il video che avevo in mente Era qualcosa di Era qualcosa Mirko vendemmia Forse Perché anche Mirko vendemmia Quest'anno Ma senza volerlo Arrivato un po' Dritto in una curva Naturalmente dritto Ha aperto i freni Ha tagliato giù dritto Uno Telecamera Però sì Anche vendemmia Era stato un po' Buttato fuori C'è da dire Anche che In gara È una cosa Che forse da fuori Non si percepisce C'è una tensione Un'adrenalina Non è che sia proprio Lucidi Perfetti Cioè Non è proprio così facile Lì c'è veramente Un'adrenalina Pazzesca Ma questo commento Ma la domanda è A ristoro Erano rimasti Panini al salame Boh Non so Michele Non farci Anche perché in diretta Non ci si può preparare A certe cose Quindi È un po' difficile Interagire Ma Michele Michele è strano Domanda 10 Scherzo Domanda 10 L'ultima Raffa ci sei? Ecco Scott Rock Rider Racing Guarda qua Allora Leggiamola E poi Naturalmente Facciamo un ragionamento Con Raffa Se no Povero Raffa Andiamo Allora Brand Coopeland Notizia fresca fresca Uno dei meccanici Più noti Della Coppa del Mondo Ha lasciato Quale team? A Scott SRAM B Rock Rider Racing Team C Orbea Factory D Massi Team Ah sì? Ma sì? Ma che? No no Io chiedo All'aiuto di Raffa Il proprio diretto Perché Buttiamolo in diretta Buttiamolo in diretta Sì ma se a Raffa Però non li fai cercare Su internet Però mandiamolo in diretta No 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 Buttiamolo in diretta Ehi qua Non è che si inganna Ok Raffa Accendi la camera Se no ti mandi Beh Mandiamolo spento Mandiamo spento con l'audio No no Mandiamolo attivo Con la camera Ciao Raffa Ma che buon uomo Lui ragazzi È il mago Un po' dietro Al sito di Epic Trail Tu non è il nerd Dietro Tu è il nerd Dietro il sito Epic Trail Ma questa domanda La sai Raffa? No Però l'ho cercata Comunque Noi non abbiamo fatto Un regolamento Quindi Vale Vale Cioè vale Sinceramente E quindi Quale sarebbe la risposta? SRAM Ah facile SRAM Capito E vabbè E riesce a darci Qualche info in più Come è che facevano In FIFA In FIFA 98 I calciatori Quando sbagliavano Il Brad Coopperland E adesso dove lavora? Ha lasciato Lo scotter dopo dieci anni Ah Ma adesso cosa va? Cosa va a fare? Ehm Che dito Ma in tutte le notizie Di solito era la fine La fine paragrafo Probavi Trainer Cosa? Il trainer No No torna in Pennsylvania A gestire il suo negozio Sì esatto Mi chiami che il trainer At US Store Ho fatto dieci anni Con Kate Courtney Beh possiamo anche dirlo Perché ormai Ormai penso che Anzi mandaci Prima di accendere la risposta Mandaci anche il filmato Che vediamo i due personaggi In questione Tanto penso che ormai Non Complimenti Raffa Grande Raffa Biker Doc Ecco Vedi Lui si divertiva con Kate Ma in Torino Non erano fidanzati Però si divertiva Vedi come si divertiva con Kate Prima la special Poi lo Scott Col boffetto Vedi Vedi Lui si divertiva E poi Nelle gare Ogni gara Si faceva saltare Da Kate Vedi Che qui secondo me Sta anche rischiando Però vabbè Ecco Questa è la serie Allora Non ho mai visto in uno show Che fanno vedere la risposta Prima di accenderla Però penso che era talmente Va bene Va bene Allora Raffa Beh grazie di Di aver portato pazienza Per ben un'ora Ma è stato un po' Acculturante per te O le sapevi tutte? No Non ne sapevo neanche una Ah ottimo No Comunque pensavo fosse una cosa Molto più incentrata Sulla mountain bike E non su chi vince La mountain bike Ah Eh no Anch'io pensavo questo Sì No anch'io Sennò un po' Mi preparavo Ah sì Vabbè Era tutto molto incentrato Sul mondo delle Delle gare Eh no perché sai Il biker puro sangue Infine i biker Cosa sanno fare i biker Sanno parlare E poi in bici Chi se ne frega L'importante è parlare Quindi rifletta un po' Questo spirito Giusto Comunque tra tutti Quelli che potevo scegliere Eh Cioè Raffa Era sicuramente La persona più qualificata Per poter portare a termine Questa missione Se non altro In velocità Sulla tastiera E secondo me Anche la fibra a casa Quindi secondo me Ha una linea internet Molto veloce Cioè Non l'avete mai visto Scrivere codice HTML Cioè Robbe Va bene Bene va bene Allora Vabbè Raffa ti salutiamo In modo Ti mandiamo via Ma in modo gentile Perché quando mandiamo via Le persone è brutto Che via Van via Però Noi lo facciamo In modo ancora più gentile Io vi saluto Ci vediamo al Marmol Domenica Esattamente Al Marmol Grave Questo weekend grave Ciao 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 Raffi Allora Andiamo ad accenderla Facciamo almeno il gesto Di accenderla Dai Adesso si accende Quella sbagliata Sai che figura Di merda Abbiamo fatto tutti i fighi Vediamo Vedete lei Vedete lei Miker Doc Ti piace l'euforia? Molto Era vera? Si vede quanti siamo collegati Grandi ragazzi Che ci hanno seguito Fino adesso Questa cosa qua Ricorda un po' Io non facevo live Da un po' Però Beato lui Che si diverte Ma no Ma mica erano fidanzati Lui ha passato dieci anni A fare il meccanico personale Di Kate Courtney Cioè Cosa si vuole pensare male? Ok Brian Allora Steve Steve Direi che Beh intanto Grazie Per l'ora insieme E Adesso non abbiamo una grafica dedicata Ma a proposito Cos'è che abbiamo chiesto All'fraprima Di Di trovare fuori Ah si la foto del Danny Stondin Danny Stondin Non sono riuscito a trovare nulla Ma come? Ma come? Però Però Ho trovato Questo Questo è il bello dell'Urban DH Lo sai chi era lui? No Cazzo Ma sono un biker puro sangue Della madonna Lui era Bernard Kerr Che ha rischiato di mandare in area una bella carriera di H Per andare a fare nulla di H E schiantarsi su marciapiede Però Però per fortuna non è successo nulla Cioè nel senso Lui è uscito illeso dal Da quel casino Allora Eh Danny Stondin Si è uscito un po' da Io ci avrei un link qua Adesso stavo andando a vedere Ci sarebbe il buon Dennis Però c'è una connessione ragazzi che non carica neanche Ma ti rendi conto fra Ti rendi conto che ci abbiamo Ci abbiamo il video sul canale 365 TV Cioè Ma è che dopo si trova anche su Facebook Si trova Del quando? Guarda mandiamo il video e poi salutiamo Steve Danny Stondin In Valparaíso Cresce Vai No Non buttiamo il sistema ancora un po' collegato Sì Eccolo qua Cresce Però non so come Perché io non sono super regista Adesso vado un po' in crisi a mandarlo Dovresti mandarlo come aiuto Sai quando fai l'aiuto del pubblico Condividi lo schermo? Va bene Comunque sei un biker doc Biker doc Fai conto? Beh finora Sia Pirazzoli Che Marani Tutti i biker doc L'unico biker puro sango Che poi era anche uno stradista Era Rosola Però ha avuto l'aiuto da casa di Marani Quindi era una coppia veramente Da spettino Allora Vediamo un po' se chiudiamo la puntata con Con il botto Ci sta arrivando Il botto Danny Ah beh è un video vecchissimo fra Perché io sto vedendo dietro il quinto cosa sta facendo Ti tengo giusto qualche Secondo in linea Steve No no Non è possibile chiacchierare Raccontatemi una storia Io adesso vi faccio vedere Secondo me c'è qualcuno ancora collegato Perché io non vedo se ci abbiamo ragazzi Adesso vi faccio vedere i libri Che raccontavano Spiegavano la geometria Il perché questa geometria di bici Era meglio Rispetto ad altre Cioè Qua c'è la spiegazione tecnica Però Quindi Io sono venuto su Sognando questi telai Per poi rendermi conto Che in realtà Dove si mette lì la borraccia? Ma qua non si beve Sai che Io non sono biker disidratato Sì sì scusa Comunque Tecnica dei gradoni Che oggi ai ragazzi Alla lezione privata Gli ho fatto Una testa tanto Diciamo che questa era quella Old school Lo school Vedo un po' in crisi il Fra Fra se riesci a vedere Guarda Ti ho mandato il link In chat privata Grande Comunque alla fine Sapete Quello che poi si parla Anche di esperienza Nella mountain bike Cioè Questa qui comunque È tutta conoscenza Che rapportata adesso Al mondo moderno Può sembrare banale Ma se uno Ha vissuto Ha studiato Certe cose Alla fine È tutto bagaglio tecnico Che ci portiamo dietro E che creano L'esperienza No? In una persona Sì quello sì 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 Mi piace Stai facendo un po' il filosofo Quello sì Però alle volte Sto vedendo che È bello essere anche Un po' più pratici E meno teorici Beh assolutamente Sì Però Poi la teoria sui libri così La mountain bike È sempre tosta Uh 40 secondi Abbiamo Dai Mandiamo questi 40 secondi Poi Quindi Ragazzi Seguiteci in queste 40 secondi Finali Speriamo che ci sia la ripresa Da fuori Perché Qui entrano in casa di uno Vedi Quanta sicurezza Che qua È subito Bellissimo Guardalo qua Guardalo qua Che cresce In fondo a questa Ma che roba Spam Sapete che magari Guardalo qua Com'è che ve la condivido Basta scrivere Dennis Tondin Valparaiso Su Google Immagini Dennis Tondin Valparaiso Cresce Google Immagini E dopo lì Fra Chiudiamo Vai Oh no Ti stiamo mettendo la prova Vai vai regia E lì lo mandiamo A tutto a schermo E quindi Come si suol dire Finiamo col botto Però è stato fortunato Ha proprio atterrato Veramente Plastico Diciamo che a volte Un metro in meno Era una caduta Da una casa Invece col metro in più Era uno scivolamento Leggero Leggero Ma guarda che prova A vedere in chat Che ho linkato Un'immagine Google Sì l'ho vista Poi io non ho ancora capito Chi vede questa chat o meno Io l'ho scoperto Ma siamo noi Cioè è tra noi privata Come per dire Oh non dire bestemmia Oh Cioè funziona un po' così La chat privata Voi le fate queste cose Com'è che Voi le fate queste cose Com'è Con l'occhialino così È fantastico L'occhialino scontriano Tu leggi Tanta roba è qua Eh vabbè Poi quando sbatti il ginocchio Aspetta Poi sia quando sbatti il ginocchio Che quando fai stretching Ma quindi te le leggi ancora Ste cose No è lì Ma ce ne ho altri Abbiamo tirato fuori Mi basta Mi basta quello Eccola qua Eccola Col buonasera Anche di love ciccio caputo Bello Qui Allora non si vede negli occhi Ma gli occhi secondo me Sono un pelino Un pelino spaventato Lì ha urtato col pedale Aveva urtato col pedale Il manubrio No con il manubrio Non so mai col manubrio Infatti si vede proprio nel video Che fa così Ma altronde Cosa aveva il manubrio Da 82 È atterrato in braccio È atterrato in braccio Al chirurgo plastico Va bene ragazzi Prima aveva fatto Tutti questi esercizi qua E quindi era molto L'immagino Ma qui mi immagino Una bella musica Anni 70 Sai Quella è un po' Da Un po' molto Cantece la fra Cosa intendo dire Non lo so Non lo so Ma perché sei New generation Te Te ascolti la trap Mica ascolti la 70 Un po' così Un po' melodica Giusto? No non mi segui? No Ok Allora Grazie Grazie Steve Sei un biker doc Quindi farai bella figura Perché adesso nel tabellone Risulterai tra i primi posti Quindi L'hai sfaggata alla grande Ottimo Non l'avrei detto Dopo la prima domanda Però Ti faccio il mio commento In privato Ok Ma quante puntate Ci saranno ancora Da seguire? Non lo so Noi continueremo Finché 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 avremo linea internet Poi bisogna un po' vedere con Con l'Elba Se là c'è internet Perché quello è il problema Quando si arriva sull'isola Là non c'è una buona linea Quindi bisognerà vedere È una vita triste O si va al mare Si fa festa O si sta a casa E si ha internet Giusto? Eh no meglio il mare dai Se no si chiede l'aiuto di Elon Musk Che ti manda 3-4 satelliti Sull'Elba Sì 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 Va bene Dai Fra Saluta tutti Com'è che si saluta qua? Così ciao? E poi tutti spugniamo Ci sarà il silenzio Delle nostre case No perché Infatti perché io dico Saluta Fra Perché lui deve Innescare un saluto E nel frattempo toglierci Se no io non so Come approcciare il saluto Dai Va buo Dai Dai Va buo Un bel respiro Ma che cosa Vai Davide Francesco ci vediamo Ci sentiamo Siete delle cose Ah fai così Steve Fai così Venerdì Ok Ok E ci togli man mano Venerdì abbiamo Cello Cello pesenti Venerdì Ciao ragazzi Grande Ciao Ciao Ciao